Le opposizioni adesso per Silvio Berlusconi, lo scontro sul decreto fiscale fa capire come l'alleanza Lega 5 Stelle sia un matrimonio innaturale. Da Trento il leader di Forza Italia torna a criticare la manovra voluta dal governo. Seguiamo l'inviata Barbara Romano. Siamo le comiche. Silvio Berlusconi commenta così lo scontro in atto nella maggioranza sul condono fiscale. È doloroso assistere a questo teatrino, attacca il leader di Forza Italia, che definisce l'alleanza di governo un matrimonio innaturale tra due partiti molto diversi che si sono costretti a stare insieme per il potere. Ma è davvero brutta l'immagine che stiamo dando al mondo, commenta Berlusconi, che esprime un auspicio. Io spero che questa situazione duri poco. L'ex premier non si lascia impressionare dalle percentuali che oggi vengono attribuite a Lega 5 Stelle. Quando arriveranno i risultati concreti della manovra, i sondaggi cambieranno molto rapidamente, avverte, e boccia senza mezzi termini la legge di stabilità. Ci porterà probabilmente, speriamo di no, ma molto probabilmente a una bocciatura da parte della Commissione europea. E questo per noi sarà un fatto gravissimo. Direi quasi una catastrofe. Torna ad attaccare duramente i 5 Stelle. Sono peggio della sinistra contro cui ho sceso in campo nel 94. Almeno i comunisti qualcosa sapevano di amministrazione pubblica. Questi non sanno niente, non sono capaci di nulla. Ma non risparmia critiche neppure la Lega. Però difende l'alleanza nelle regioni e nei comuni con Matteo Salvini, al quale lancia un messaggio. Forza Italia, con la Lega, è la maggioranza naturale dei cittadini in tutta Italia. Grazie a tutti.